Buongiorno a tutti, come preannunciato oggi vedremo l'argomento sui diagrammi di flusso, lo vedremo sotto questa forma di video registrato per compensare le problematiche di presenza in aula e di turnazione che succedono questo giovedì. Come vi dicevo l'argomento di oggi è quello dei diagrammi di flusso e che è una forma alternativa rispetto al pseudocodice che abbiamo usato nelle lezioni precedenti per poter rappresentare la formalizzazione di un algoritmo nel momento in cui lo stiamo sviluppando. Veniamo subito al formalismo, il formalismo dei diagrammi di flusso è un formalismo grafico, è un formalismo che si basa su dei simboli rettangolari, romboidali che andremo a conoscere e attraverso i quali è possibile rappresentare graficamente e visualizzare quella che è l'esecuzione di un programma, l'esecuzione di un algoritmo. Se andiamo un pochino più nel dettaglio, un diagramma di flusso è composto da una combinazione di blocchi che corrispondono alle singole operazioni che sono rappresentate semplicemente attraverso un rettangolo. Queste operazioni sono ad esempio l'operazione di calcolo, calcola A uguale B diviso C, cose di questo genere, saranno rappresentate da una semplice attività che rappresenta il fatto che l'elaboratore compie quell'attività, diciamo così, all'interno dei dati che ha già in possesso. Se invece si tratta di operazioni che coinvolgono l'input o l'output di dati, quindi l'acquisizione di dati dall'esterno oppure la visualizzazione, la stampa dei risultati, si tende a utilizzare invece una rappresentazione di tipo parallelogramma, quindi questi lati inclinati ci servono un pochino a ricordare che il dato, qui non avvengono delle elaborazioni dei calcoli ma semplicemente dei trasferimenti di dati da una parte all'altra, dall'esterno del calcolatore verso l'interno quando facciamo un'operazione di input, di lettura, mentre invece un'operazione di output porterà i dati dall'esterno dal calcolatore verso l'esterno per poterli stampare. Qui chiaramente di fatto vedremo le due operazioni di leggi e visualizza, input o output, print, nel senso di stampare, output, stampa, visualizza, sono i termini che useremo per fare l'output, leggi, acquisisci, prendi, input, sono i termini che useremo in modo più o meno intercambiabile per rappresentare le operazioni di input. Questi blocchi ovviamente possono essere collegati tra di loro con delle frecce, per collegare, per indicare qual è la sequenza delle operazioni da compiere, quindi ho diversi task rappresentati diversi rettangoli, ecco, questi task dovranno essere eseguiti in un certo ordine e l'ordine è definito proprio dalle frecce che indicheremo sul diagramma. Esiste poi il terzo blocco, il terzo tipo di blocco principale, che è quello a forma, diciamo così, di rombo, che rappresenta un punto di scelta. Un punto di scelta, un rombo è un blocco, è l'unico tipo di blocco che ha praticamente un ingresso e due uscite, due uscite che corrispondono al caso in cui la condizione sia vera o al caso in cui la condizione sia falsa. Quindi anche qui non avvengono delle elaborazioni, non avvengono dei calcoli dentro un blocco di scelta, viene semplicemente la valutazione di una condizione che può essere vera o falsa, che ne so, A maggiore di 0, A uguale B, sono condizioni che possono verificarsi in modo vero, quindi valido, oppure in modo falso, cioè i valori di quelle variabili in quel momento non soddisfano la condizione che esprimiamo. E in funzione di quel valore di verità o falsità di questa condizione, l'elaborazione proseguirà da un lato diverso. Questo lo rappresentavamo con un pseudo codice sotto forma di un se condizione e poi avevamo un indentato, rientrata, la serie di operazioni da compiere nel caso in cui l'operazione fosse vera, non avevamo finora ancora considerato il caso in cui ci fosse qualcosa da fare nel caso in cui la condizione fosse falsa. Questi sono i blocchi di partenza, sono uno strumento che ci aiutano a visualizzare il flusso della lavorazione del programma, come si svolge, quindi alcuni di noi avranno più facilità a vedere l'esecuzione del programma osservando il diagramma di flusso, altri di noi, come dicevo, avranno magari più facilità a utilizzare un pseudo codice perché magari poi la visualizzazione se la costruiscono in mente, ma sono strumenti alternativi che ci permettono appunto di ragionare sulla sequenza delle operazioni. Come si disegna un flowchart? Beh, innanzitutto bisogna avere in mente qual è la strategia risolutiva, questo è il punto di partenza. Se noi non sappiamo risolvere un problema, non c'è flowchart che ce lo possa far risolvere. Dobbiamo innanzitutto appunto avere in mente le operazioni da fare, poi le rappresentiamo disegnando i vari blocchi, che siano blocchi di input-output o siano blocchi di disecuzione, di attività, collegati in una sequenza opportuna. Il rombo lo possiamo usare, è un blocco di scelta e si può usare sia, adesso lo vedremo in alcuni esempi, si può usare sia per costruire delle alternative, sia per utilizzare delle ripetizioni. Alla fine nel diagramma di flusso c'è un unico simbolo che viene usato in entrambe le tipologie di sviluppi del programma. Ricordate la volta scorsa che abbiamo detto, abbiamo osservato, giocando un pochino con il pseudo codice, che un programma, un algoritmo è composto essenzialmente dalla combinazione sempre di questi tre elementi, la sequenza, l'alternativa e il ciclo. Allora, sulla sequenza corrisponde ai, le operazioni di seguenza corrispondono ai blocchi di attività, ai blocchi di input-output, mentre invece per la costruzione di alternative cicli si usa il simbolo del trombo. E poi dobbiamo fare attenzione a essere un pochino disciplinati con le frecce. Cerchiamo di non collegare una freccia ad un'altra freccia, che poi si diparte, che poi si collega, perché altrimenti dopo un po' non si capisce più nulla. Dobbiamo evitare che i nostri diagrammi di flusso abbiano l'aspetto di un piatto di spaghetti, come dicono gli americani, spaghetti likes, tutti contorti, arrotolati, da cui non si capisce poi più dove inizia un flusso di esecuzione, dove questo termine, dove questo prosegue. Noi cercheremo anche più avanti di formalizzare un pochino meglio questo concetto, parlando di diagrammi di flusso strutturati, ma per ora cominciamo a parlare di diagrammi di flusso ordinati. Per quanto riguarda la costruzione di alternative, dicevamo che usiamo il blocco di scelta, il blocco rombo, quindi c'è una condizione, quindi l'esecuzione del programma a un certo punto, e l'algoritmo arriva fino a qui e in funzione di questa condizione farò cose diverse. Può darsi che le cose da fare siano più di due, quindi a questo punto avrò una serie di scelte in cascata. Se è vero la prima scelta faccio questo, se è vero la seconda scelta farò quest'altro, se è vero la terza scelta farò il terzo ramo e se nessuna delle tre precedenti possedere, quindi falso, 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 vado a ricadere in questo blocco di operazioni in cui farò altri tipi di cose. E fin qua, diciamo così, è la natura del blocco di scelta, quella di diramare l'esecuzione del programma e costruire delle alternative mutuamente esclusive. O faccio questa o faccio quell'altra, ma non le farò mai tutte e due. L'altra cosa importante da notare è che una scelta a un certo punto inizia qui, ma termina in un certo punto. Cioè dobbiamo essere in grado di identificare quando faccio una scelta qual è il punto inizio, il punto di fine di queste varie diramazioni del programma. Da questo punto in avanti, il punto di ricongiunzione, il punto di fine della scelta, l'esecuzione dell'algoritmo procede in un modo solo. Quindi la scelta non è una divergenza per sempre, da questo momento in avanti seguiamo strade completamente diverse, ma è una divergenza temporanea. Per una certa serie di operazioni facciamo cose diverse e poi probabilmente si ricongiungono i due flussi di esecuzione, quello di sinistra e quello di destra, per poi continuare insieme nello stesso modo. Proviamo ad applicare questo formalismo ai problemini che abbiamo visto insieme ieri. partiamo magari da quello più facile, quello dell'equazione di secondo grado. Allora, partendo dall'equazione di secondo grado, noi pensiamo che avevamo la lettura, ricordiamo che dobbiamo risolvere l'equazione, scriviamola qui, ax alla seconda più bx più c uguale a zero. Questo è il nostro obiettivo. da risolvere. E per fare questo abbiamo ragionato sull'equazione risolutiva e abbiamo già cominciato a pensare quali sono i passi. Ci siamo resi conto che il fatto che la variabile a fosse uguale a zero o diversa da zero ci cambiava notevolmente le cose e quindi in qualche modo dobbiamo trattarla in modo diverso. Allora, se lo vogliamo rappresentare sotto forma di diagramma di flusso, conviene sempre essere espliciti su quale sia il nodo di partenza dell'algoritmo. Immaginate di avere un algoritmo che è abbastanza lungo, dobbiamo capire da dove si parte. E quindi conviene avere un nodo simbolico che possiamo chiamare avvio, start, di solito viene disegnato come un ovale, e così identifica il punto di partenza dell'algoritmo. E così analogamente quando avremo finito i calcoli avremo un nodo che chiamiamo nodo stop, una parte dell'algoritmo che dice qui è terminato, non c'è più nulla da fare, ha raggiunto l'obiettivo che era quello di risolvere questa equazione. Le operazioni da fare sono, abbiamo detto come prima cosa, quella di acquisire i dati d'ingresso. Se io non conosco i valori di A, B e C, chiaramente non potrò fare nulla. Allora, la prima operazione da fare sarà un'operazione di input, leggi, o input, A, un'operazione, quindi, oh, pardon, lo sto disegnando molto male, l'operazione di lettura input P, anche questo starà dentro il suo rombo, e l'operazione di lettura input C. Sono tre operazioni in cui leggo un dato, leggo un secondo dato, leggo il terzo dato. Queste tre operazioni non sono messe così a caso su un foglio di carta, ma devono essere eseguite sequenzialmente, quindi dall'avvio del programma passo alla lettura di A, dalla lettura di A passo alla lettura di B, dalla lettura di B passo alla lettura di C. Quindi ci sono queste frecce che ci dicono come prosegue l'evoluzione del programma. In questo caso abbiamo fatto tutta una componente di input dei dati, di lettura dei dati, in realtà da adesso in avanti potremmo anche prendere delle scorciatoie, ad esempio scrivere un input A, B, C, per dire, guarda, adesso in questo blocco leggiamo questi dati, senza dover essere pedanti ogni volta e far vedere tutti i singoli dati come fossero letti uno per volta. E' ovviamente la tipica operazione di economia, noi abbiamo un determinato spazio sul foglio a disposizione, se sprechiamo questo spazio per far vedere dei dettagli, poi ci perdiamo la vista insieme e ci perdiamo la possibilità di vedere il resto del programma. E quindi dovremmo essere tanto dettagliati quanto ci serve. Cioè se una parte del programma in cui dobbiamo ragionare bene, di cui non siamo sicuri, è meglio essere dettagliati e andare passo a passo. Se una parte del programma invece su cui possiamo andare lisci, in certo senso, allora possiamo semplificare. Cioè non c'è una legge che mi dica che cosa ci sta in questi blocchi, se questi blocchi devono contenere delle operazioni complicatissime oppure delle operazioni banali elementari. Questo non è un vero linguaggio di programmazione, quindi non ci sono delle regole rigide su che cosa metto su questi blocchi. Le regole me le faccio io. All'interno di questi blocchi ci inserirò il tipo di azioni o il tipo di condizioni che considero elementari, cioè che secondo me non vale la pena andare a dettagliare, non vale la pena andare a specificare meglio. Ma per il resto posso scegliere io il livello di astrazione e il livello di complessità. Normalmente scegliere un livello di complessità più semplificato, una astrazione più elevata per le parti semplici, mentre invece per le parti più complicate scegliere un livello di astrazione più definito. E' lo stesso ragionamento anche che facciamo con lo pseudocodice. Sono strumenti che ci aiutano a ragionare. Usiamoli dove ci serve di più ragionare. Andiamo avanti. Quindi avevamo a un certo punto una scelta da compiere se questa equazione fosse effettivamente un'equazione di secondo grado o invece se fosse un'equazione, diciamo così, di genere per cui alla fine scopriamo che era di un'equazione di primo grado. Allora questo si basa chiaramente sul fatto che ha H0 oppure no. e quindi qui abbiamo un grosso blocco di scelta che mi chiede, che si chiede se A è uguale a 0. Lo 0 di solito quando si scrive a mano si sbarra per non confondere con la O. Attenzione che A uguale a 0 non significa rendi A uguale a 0. Questo uguale è un uguale di confronto, non è un uguale di assegnazione. Non sto dicendo A uguale a 0, sto dicendo se A fosse uguale a 0. Il SE non si dice, non si scrive, è sottinteso perché è sottinteso dalla forma romboidal di questo blocco. E allora ho due possibilità, O è sì o è no. O è uguale a 0 oppure non è uguale a 0. E allora posso proseguire in due modi diversi. Quindi ad esempio nel caso in cui A sia uguale a 0, sì, io qua scriverò sì, oppure scriverò vero, oppure scriverò true, oppure a brevio vero con V, oppure a brevio true con T. E invece ho un'alternativa che invece prosegue da un'altra parte quando questa condizione invece è falso. è un no, in inglese è false, oppure a brevio false o falso con F. Ho questi due rami nei quali proseguo in modo chiaramente diverso. e dopodiché questi due rami si dovranno ricongiungere alla fine del programma, ma per ora chiaramente non ci siamo ancora arrivati, dobbiamo ancora, diciamo così, completarlo. Allora alzo il foglio per vedere come proseguo in un caso e nell'altro. Allora, in un caso, nel caso in cui A è uguale a 0, avevamo detto che l'equazione in realtà si riduceva a un'equazione di primo grado e quindi supponiamo che B fosse diverso da 0 per non farla troppo lunga, alla fine ci riduciamo a calcolare il risultato X, in questo caso, come meno, dunque, C diviso B, C fatto B. E questa è un'operazione di calcolo, che svolgiamo in questo caso, che sarà seguita da un'operazione di visualizzazione di stampa di X. E con questo, da questo ramo, ho terminato, quindi da qui poi dovrò semplicemente ricongiungermi all'altro lato. Da quest'altro lato, invece, siamo sicuri, lo metto qua tra parentesi, che A è diverso da 0. Qui non dobbiamo necessariamente chiederci, ma A è diverso da 0? È ovvio, è scontato che sia diverso da 0, perché altrimenti in questo primo rombo saremo andati dalla parte di sinistra. Allora, a questo punto, poiché so che A è diverso da 0, posso applicare la mia formula risolutiva, che mi chiede come prima cosa di calcolare il discriminante, quindi B al quadrato meno 4AC, e qui ho il vantaggio che, se vogliamo, stiamo scrivendo su carta e penna, e non mi devo preoccupare della sintassi, del fatto che la lettera delta non c'è nella tastiera, nel fatto che il quadrato, non so come indicarlo, scrivo direttamente la notazione che mi serve, purché io stia scrivendo delle cose precise. Quindi, di nuovo, il rigore, la precisione, la non ambiguità, sono la chiave principale. Non è tanto la dimensione, la forma, la posizione di questi blocchi, ma il fatto è che siano collegati in un modo chiaro, che le condizioni di svolta siano chiare, e le operazioni da fare siano chiare. Poi il resto, in un certo senso, è estetico, però deve rappresentare, diciamo così, in modo non ambiguo, il ragionamento che sto facendo. E quindi a questo punto avevamo già valutato che in funzione del fatto che il discriminante fosse positivo, negativo o nullo, facevamo cose diverse. Allora, come prima cosa potremmo, il blocco di scelta, però, ha solo due uscite, sì e no, vero e falso. Quindi noi non possiamo avere un blocco di scelta con tre uscite, cioè minore, uguale o maggiore di zero. Dovremmo spezzare il controllo in due. Ad esempio, se delta è minore di zero, me la cavo facilmente, perché in questo caso dirò che non ci sono soluzioni. Quindi se delta è minore di zero, sì, stampo nessuna soluzione. farò un output in cui scrivo che non ci sono soluzioni. Se invece è falso, non è vero che delta sia minore di zero, allora può essere nullo o positivo. Quindi nel caso in cui delta sia uguale a zero, o un'altra, qui stiamo costruendo una catena di scelte molto simile a quella che abbiamo visto nella slide precedente, dove c'erano più scelte in cascata, quando ce n'è una vera faccio con l'azione, quando invece è falsa passerò alle scelte successive, ai controlli successivi. Quindi in questo caso, nel caso sì, che lo devo fare? Nel caso sì, in questo caso semplicemente dovrò stampare il discriminante uguale a zero e quindi il valore complessivo è meno b fratto 2a. Scusate, ho dimenticato il 2. Meno b fratto 2a. E lo stampiamo in output. Qui non scrivo stampa per ragione di spazio. L'operazione di input output, quindi sto visualizzando questo. Avrei dovuto poter scrivere stampa meno b su 2a. E se no c'è l'altro caso, che farò qua sotto, posto ancora un pochino il foglio, in cui, vabbè, dovrò farmi il conto complessivo e quindi calcolerò che x con 1 è uguale a meno b meno radice di delta, che è positivo, quindi non mi dà problemi, fratto 2a, che è diverso da zero, quindi non mi dà problemi. E poi calcolerò invece x con 2 che è meno b più radice di delta fratto 2a e non mi dà problemi. E poi stamperò sia x con 1 che x con 2. e questo avviene dopo. Fatto questo, diciamo così, ho finito. Nel senso che qua c'erano le tre alternative, minore di zero, maggiore di zero, uguale di zero, non ho più alternative e quindi da questo momento in avanti cessa la necessità, diciamo così, di seguire strade diverse e quindi ci riportiamo tutti e tre nello stesso punto e da qui in avanti il programma proseguirà unificato a fare altre cose eventualmente, magari non deve fare tutto. Se deve fare solo questo, allora abbiamo finito. Però attenzione, non dimentichiamoci che dall'altra parte c'era ancora una stampa di x che a questo punto dobbiamo, che dipendeva dal fatto che l'equazione fosse di primo o di secondo grado, che dobbiamo poi ancora ricongiungere con quest'altra. Quindi dobbiamo ancora andare a riprendere, magari facciamo un punto qua in cui si incontrano questi due signori, questa freccia scende qui, questa freccia si porta qui e finalmente abbiamo finito il nostro algoritmo e quindi possiamo dichiarare la fine con un nodo di stop. quindi qui abbiamo identificato tanto per ripassarlo dei punti di scelta vediamo di adesso possiamo provare a vederlo anche tutto insieme vediamo se lui mi lascia ok qui diciamo un pochino un zoom vediamo che noi abbiamo trovato a parte questo programma da cosa è composto? da una parte di input iniziale lettura iniziale qui una parte la parte di lettura iniziale seguita da una prima scelta che inizia qua e termina laggiù in fondo in questa scelta ho un primo ramo che è composto da due operazioni un secondo ramo che invece è più lungo è composto da un'operazione di calcolo seguita da una catena di scelte catena di due scelte che portano a una due e tre percorsi diversi questa catena di scelte si chiude e si conclude qua in fondo quindi in pratica abbiamo una scelta una catena di tre scelte a destra che è inserita all'interno di uno dei due rami di una scelta che è stata fatta prima quindi questo questa diciamo così struttura noi la chiamiamo di scelte annidate cioè una scelta all'interno di un'altra non c'è nessun problema a costruire algoritmi con scelte annidate o poi vedremo anche con ripetizioni annidate il calcolatore lo gestisce benissimo chiaramente quando cominciamo a annidare tante condizioni una dentro l'altra diventa complicato seguirlo per noi soprattutto non tanto eseguirlo per il calcolatore quindi qui abbiamo rappresentato quello che è il nostro pensiero le nostre operazioni che facciamo quando siamo di fronte in equazioni di secondo grado e questo in realtà ci dice anche o possiamo anche vederlo come uno strumento per simulare ciò che farà il calcolatore allora noi per verificare no? cominciare a verificare se ciò che stiamo scrivendo è corretto possiamo simulare di essere l'esecutore di questo diagramma di flusso non è proprio ancora la CPU del calcolatore ma è qualcuno che cerca di eseguirlo attenzione se passiamo in modalità esecutore dobbiamo immediatamente immediatamente dobbiamo immediatamente passare in modalità macchina pensiamo con una macchina eseguiamo le istruzioni senza pensare senza ragionarci quindi siamo in una modalità in cui parto dal blocco leggo cosa devo fare lo faccio leggo cosa devo fare lo faccio leggo cosa devo fare lo faccio verifico questa condizione senza più ricordarmi cosa avevo fatto prima e senza avere la consapevolezza di cosa farlo dopo quindi ogni blocco viene eseguito a se stante viene eseguito diciamo così in modo pedante in modo preciso ma senza capire cosa sto facendo cioè eseguire questo diagramma di flusso lo può fare chiunque anche se non sa che cos'è una questione di secondo grado basta che sappia come fare questo calcolo ad esempio di livellamento alla seconda basta che sappia come fare la radice quadrata che mi serve e che viene usata dopo quindi chiunque sappia come eseguire le operazioni di base segue il diagramma di flusso ed arriva a un risultato se questo risultato è corretto allora vuol dire che la correttezza del risultato è conseguenza non dell'intelligenza della persona che l'ha usato ma del fatto che il diagramma di flusso l'ha portato nel punto giusto l'ha portato al risultato giusto e questo è il modo in cui diciamo a far compiere operazioni intelligenti a macchine che intelligenti non lo sono perché l'intelligenza ce l'abbiamo messa noi nel costruire il percorso che poi la macchina seguirà senza capire nulla ma semplicemente eseguendo le istruzioni eseguendo le sequenze eseguendo le scelte che io ho preparato e sapendo ovviamente compiere le operazioni elementari che sono all'interno di ciascuno di questi blocchi e quindi per familiarizzarci con questi diagrammi di flusso in realtà possiamo diciamo così quindi partendo da questi semplici esempi fatemi spendere due minuti per commentare un po' meglio il discorso delle 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 connessioni e dei percorsi che possiamo definire in diagrammi di flusso di una certa complessità vediamo questo esempio che è stato proposto sul libro che abbiamo riportato qua e che parla delle spese di spedizione da calcolare e diciamo così la regola il regolamento del vettore ci dice guarda che quando devi spedire un pacco le spese di spedizione valgono 5 dollari se tu devi spedire nei codetti Stati Uniti continentali quindi 48 Stati centrali e invece se devi spedire sempre negli Stati Uniti ma negli Stati diciamo così separati che sono lo Stato dell'Huguay e lo Stato dell'Alaska invece le spese di spedizione costano 10 dollari ma poi anche le spedizioni straniere extra Stati Uniti costano 10 dollari quindi ci sono diciamo il testo ci racconta tre casi diversi Stati Uniti continentali Stati Uniti separati oppure extra Stati Uniti sono tre casi diversi e le spese di spedizione sono diverse nei tre casi quasi diverse ma in realtà qui e qui sono uguali nel senso che due c'è 10 e 10 allora proviamo a costruire questo diagramma di flusso che ci dice guarda la spedizione è all'interno degli Stati Uniti quindi Stati Uniti o intercontinentale allora se è intercontinentale scusate è straniera extra Stati Uniti se è extra Stati Uniti io so che diciamo così una spedizione internazionale costa 10 dollari e non mi pongo problemi se invece è dentro gli Stati Uniti può essere negli Stati Uniti continentali oppure no se è in quelli continentali allora costa 5 dollari i 48 Stati centrali altrimenti ecco questo ramo qua non è ancora stato disegnato perché è quello su cui vogliamo ragionare altrimenti sono nel caso della Wild e dell'Alaska mi verrebbe una forte tentazione quella di dire ma guarda che la Wild e l'Alaska sono hanno lo stesso prezzo dell'internazionale e allora a questo punto io ho già un blocco che mi dice la spedizione costa 10 dollari e allora questo ramo falso cioè quando sono negli Stati Uniti ma non negli Stati Uniti continentali allora userò questo blocco e mi devo portare all'ingresso di questo blocco una struttura di questo genere non ci piace non va bene perché non va bene? perché non è facile non è evidente evidenziare identificare quali sono i punti di inizio e i punti di fine delle varie scelte cioè mentre prima era chiaro che questa scelta inizia qua e finirà più in fondo e questa scelta inizia qua e finirà da qualche altra parte che poi disegneremo qui si mesclano le cose nel senso che io ho una scelta che inizia qua e finirà qua sotto è un'altra scelta che da un lato finisce chissà dove ma dall'altro invece si ricongiunge alla fine della prima scelta quindi non c'è più una corrispondenza inizio-fine che ci permette di dire questa scelta è di qua quest'altra scelta è di là prima parlavamo di scelte annidate una scelta fatta dentro l'altra qui non possiamo dire che siano scelte annidate perché la scelta continental US sembra dentro a quella inside US ma non lo è perché un pochino ci entra ci rientra dall'altra parte non è neanche al contrario inside non è contenuto dentro continental e continental non è contenuto dentro inside perché non è contenuto perché continental non è contenuto dentro inside ma perché vedendolo di qua continental sta nel ramo vero allora se io sono nel ramo vero e sono all'interno del ramo vero starò dentro il ramo vero e invece questa cosa qua a un certo punto scappo e vado a finire nel ramo falso allora non è più vero che continental è all'interno del ramo vero inizia dentro ma poi a un certo punto esce fuori e va a finire dentro il ramo falso capite che se cominciamo a fare queste cose qui su un diagramma anche complesso ma che poi il diagramma non è tanto il problema del disegno il problema del ragionamento mentale che ci sta dietro a un certo punto ci perdiamo e non sappiamo più dove siamo se io sono qui non so più se ci sono arrivato per questo motivo o se ci sono arrivato per quest'altro motivo e soprattutto il fatto che ci posso essere arrivato in due modi diversi può complicarmi il ragionamento che devo fare da questo punto in avanti perché non sono più sicuro di come ci sono arrivato quindi bisogna essere molto ordinati molto strutturati e dire va bene io ho questo blocco che ha un ramo vero e un ramo falso quando ho finito di fare tutto il lavoro implicato dal ramo vero mi ricongiungo con il ramo in cui ho finito di fare tutto il lavoro che è implicato dal ramo falso e quindi la prima scelta che inizia qui e termina qui all'interno di questa prima scelta c'è un ramo vero all'interno del quale c'è una seconda scelta che inizia qui e termina qui allora vediamo che l'inizio e la fine del continental sono completamente all'interno di uno di due rami dell'insight diverso allora quando io riesco a dire che un determinato blocco una scelta è completamente all'interno di un altro blocco allora sto lavorando in modo strutturato questo strutturato vuole anche dire che io potrei a un certo punto rimpiazzare tutto questo con un unico grosso rettangolo che chiamo gestisci il caso continental e la struttura del diagramma di flusso regge non ho frecce che dovrebbero entrare e uscire da questo rettangolo posso inscatolarlo inscatolare significa astrarre riuscire a non vedere per un momento certi dettagli lì so che faccio certe operazioni non le vedo perché in questo momento non mi interessano allora per riuscire a fare questa operazione di astrazione diversa adesso voglio vedere i dettagli e adesso non li voglio vedere e l'unica diciamo così possibilità è quella di lavorare in modo strutturato cioè o un blocco è completamente contenuto in un altro o è completamente esterno all'altro questa semplice regola poi la vedremo ci permetterà da un lato di costruire i diagrammi più facili da seguire soprattutto non dalla macchina per eseguirli chi se frega da noi quando li dobbiamo progettare ma nello stesso tempo saranno molto più facili e direttamente traducibili in un linguaggio di programmazione cioè tutti i linguaggi di programmazione di oggi di fatto sono linguaggi di programmazione strutturati i costrutti del linguaggio l'istruzione if del linguaggio python è un'istruzione strutturata e quindi permette di rappresentare nel linguaggio solamente algoritmi che a loro volta siano strutturati che a loro volta provengano da diagrammi di flusso strutturati in questo modo proviamo a vedere un altro esempio ah no scusate qui c'è una nota che ci ricorda di non sottolineare di non sottovalutare la complessità di ciò che facciamo è sempre ogni volta che un algoritmo si complica o deve gestire un sistema complesso questo algoritmo diventa stesso complesso e comincia questa complessità di essere veramente difficili da gestire c'è questo aneddoto che ho raccontato qua che nel 93 nell'aeroporto di Denver si decise di informatizzare completamente il sistema di gestione dei bagagli e di fatto il sistema di gestione dei bagagli è un grosso una grossa catena di scelte cioè quando ti arriva un bagaglio tu devi decidere dove instradarlo se mandarlo a un volo diciamo così di collegamento se mandarlo invece al ritorno bagagli a quale gate a quale termine eccetera eccetera hanno costruito il nuovo aeroporto e hanno fatto un sistema di controllo bagagli il più automatizzato possibile che leggeva le etichette da solo e decideva dove instradare i colli dove instradare le valigie e le caricava su dei carrelli in realtà così autonomi che andavano giravano e trovavano da soli la propria destinazione seguendo seguendo dei binari chiaro non era guida autonoma come la intendiamo oggi era molto era molti anni fa l'effetto è che si è sottovalutata la complicità di questo sistema e il giorno di apertura dell'aeroporto non funzionava niente di fatto le cose andavano nei posti sbagliati si bloccavano si intasavano eccetera eccetera e poiché ovviamente un aeroporto se non ti gestisce i bagagli non può far partire i voli perché non puoi far partire le persone dire la valigia abbiamo scherzato in realtà il tutto fu bloccato e il danno dovuto dal sottostimare questa complicità dall'averlo costruito in modo non adeguato è stato circa un anno di ritardo e circa un miliardo di dollari di danno essenzialmente economico che il gestore dell'aeroporto ha richiesto all'azienda informatica che ha prodotto il sistema quindi cerchiamo di non andare a finire in queste brutte antipatiche soluzioni situazioni ok ma come dicevo magari proviamo a fare un secondo esercizio non un pochino più articolato ancora sempre sul diagrammi di flusso che implicano delle scelte ma ma su un arco temporale maggiore cioè tutto sommato l'equazione di secondo grado è una cosa istantanea faccio un conto e ti stampo il risultato qui invece ci poniamo in un contesto un pochino più lungo temporalmente cioè noi abbiamo un signor Fred che di mestiere vende mazzi di fiore al centro commerciale e Fred ha un capo questo capo si chiama Joe e Joe gli dice guarda che io in ogni momento ho bisogno di sapere dell'informazione che tu mi fornisca dell'informazione su come sta andando la giornata e in particolare in ogni momento della giornata mi devi dire quanti mazzi di fiore hai venduto qual era il valore del mazzo più costoso che hai venduto qual era il valore del mazzo meno costoso che hai venduto e qual era il valore medio dei mazzi che hai venduto finora quindi tu stai pronto in qualunque momento posso venire e chiederti questi quattro valori questi quattro numeri quindi chi è l'input e chi è l'output qua dentro l'input chiaramente sono i mazzi di fiori venduti quindi ogni volta che Joe no scusate che Fred vende un mazzo di fiori avrà l'informazione di qual è il prezzo di questo mazzo di fiori costava sei euro l'output sono questi quattro valori ma questo output viene ripetuto e deve essere aggiornato ogni qualvolta viene venduto un nuovo mazzo di fiori è chiaro che se io non sto vendendo nulla questi quattro valori non cambiano ma solo quando vendo qualcosa di nuovo tutti e quattro o almeno il primo e l'ultimo il primo cambia di sicuro se vendo un nuovo mazzo allora se ne avevo venduti tre diventa quattro il valore medio può cambiare normalmente cambierà a meno che io non abbia venuto un mazzo il cui valore sia casualmente esattamente uguale al valore medio e questi qui invece possono cambiare o non cambiare a seconda dei casi come lo possiamo strutturare dal punto di vista del diagramma di flusso una cosa di questo genere allora prendiamoci una pagina nuova e proviamo a disegnare allora innanzitutto è un pochino più complesso e quindi magari ci conviene ragionare per passi per gradi quindi io direi a primo livello io potrei dire iniziamo qua inizia la giornata start avvia poi dovrò leggere cioè dovrò acquisire il fatto che ho venduto un certo mazzo e quindi io acquisisco il prezzo di un certo mazzo input prezzo del mazzo che ho appena venduto avendo questo prezzo quindi la prima volta sarà 5 euro un'altra volta sarà 7 euro l'altra volta sarà 20 euro cambia ogni volta questo valore è un valore variabile io parto così ad alto livello mi faccio un grosso blocco in cui scrivo aggiorna i quattro valori non lavori ma valori valori da calcolare è chiaro che questo è un diagramma di flusso ancora temporaneo perché il mio cricetto il mio computer non potrà mai capire cosa vuol dire aggiorna i quattro valori da calcolare lui mi direbbe ma scusami ma cosa devo calcolare quanto come fammi vedere le formule però è un primo passo intermedio che mi aiuta nel ragionamento perché il ragionamento non è finito qua perché io qua non posso mettere stop ma non posso mettere non posso mettere stop perché se così fosse io venderei un mazzo solo al giorno parte la giornata vendo un mazzo che ha un certo prezzo aggiorno i valori sulla base di quell'unico mazzo che ho venduto finora e poi dico basta ho finito no tutto questo va si deve poter ripetere si deve poter ripetere più volte qui togliamo questo stop è un po' prematuro si deve poter ripetere più volte finché non finisci la giornata lavorativa quindi io qua a un certo punto farò una scelta in cui dirò allora siamo a fine giornata se siamo a fine giornata allora ho finito se non siamo a fine giornata invece cosa dovrò fare dovrò accettare accettare la possibilità di prendere un nuovo di vendere un nuovo mazzo di fiori quindi un nuovo input prezzo e un nuovo aggiornamento dei valori eccetera eccetera e però anziché ovviamente crearne un nuovo qua sotto posso tranquillamente ricollegarmi a quello esistente là sopra quindi in questo caso che cosa ho fatto ho costruito un ciclo una ripetizione un ciclo che è caratterizzato da un punto di inizio da un punto di fine e da un corpo interno che viene ripetuto molte volte cioè il mio primo ragionamento il primo passo del ragionamento è c'è una parte che è questa un blocco che deve essere ripetuto tante volte allora devo combinare due operazioni un'operazione è quella di scrivere o costruire il blocco che deve essere ripetuto la seconda operazione è incasellare incastrare questo blocco all'interno di uno schema che mi permette di farlo ripetere lo schema che permette di far ripetere una certa operazione è molto semplice nel senso che dice io ho un'operazione da ripetere il corpo del ciclo C e eseguo questa operazione e avrò una condizione che mi deve dire se questa condizione se questo ciclo va ripetuto oppure no c'è un altro modo di costruire un ciclo che è quello invece di avere una condizione che precede l'esecuzione del corpo e quindi di fatto abbiamo una cosa in cui se si faccio il corpo del ciclo e poi torno su se no continuo sono due modi sono due modi diversi di ripetere il corpo C sta per corpo del ciclo in inglese lo chiamiamo body del ciclo stesso un corpo un corpo e una condizione la coppia di corpo e condizione mi fanno sì che una determinata operazione possa essere ripetuta più volte vediamo sempre che il corpo è inserito all'interno quindi qui abbiamo un corpo che è un unico blocco strutturato un punto di ingresso e un punto di uscita e il ciclo nel suo complesso è un altro blocco che ha un punto di ingresso e un punto di uscita quindi abbiamo delle frecce che girano vanno avanti e torno indietro ma lo fanno con una certa regola anche qui abbiamo un blocco che inizia qui e termina qui e comprende al suo interno un blocco che inizia qui e termina qui quindi tutto questo ciclo se vogliamo lo possiamo inscatolare e usarlo come se fosse un unico blocco più di alto livello quindi noi dobbiamo riuscire a vedere blocchi annidati adesso qui li ho evidenziati in grosso ma diciamo così con la pratica li vediamo li intuiamo perché abbiamo disegnato il diagramma in quel modo tra l'altro una cosa che non devo mai fare non dovrei mai disegnare voi dite io prima ho detto ma io ho un corpo che voglio ripetere allora perché non faccio semplicemente così? questo si ripete il problema è che questo si ripete all'infinito nel senso che una volta che sono entrato ripeto 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 e non finisce mai quindi questo non va bene perché non rispetta uno dei criteri degli algoritmi che gli algoritmi devono terminare quindi deve esserci a un certo punto qualcosa che fa sì che questa condizione di scelta da vera e vero vuol dire continua a girare diventi falsa e falsa vuol dire hai finito puoi andare a fare altro questo è il primo ragionamento più ampio da fare sul nostro esercizio dei fiori abbiamo un'operazione che si ripete più volte durante la giornata e quindi separo il concetto di faccio in modo che un'operazione si ripeta costruendo un ciclo rispetto a qual è l'operazione da ripetere che non abbiamo ancora deciso in parte abbiamo solamente detto un pezzettino abbiamo detto che un pezzo di questa operazione è l'input del prezzo ma poi c'è per ragionare allora proviamo a chiederci la prima cosa che mi chiede il testo è il numero di pacchi di fiori venduti allora diciamo che nf sono i fiori venduti numero di fiori venduti come calcoliamo questo nf allora noi siamo in un diagramma di flusso in cui abbiamo lo start in cui abbiamo un ciclo che a un certo punto legge input il prezzo e poi deve calcolare il valore dei fiori venduti quindi possiamo fare calcola nf uguale qualche cosa lascio un po' di spazio perché poi aggiungeremo gli altri pezzi del programma e poi più sotto ci sarà la scelta se fine giornata se sì se no se non siamo ancora fine giornata torna su e ripeti se invece sì hai finito allora come calcolo il numero di fiori venduti allora noi saremo tentati di dire ma il numero di fiori venduti è 1 cioè ho venduto un fiore e quindi il numero di fiori venduti è 1 se non che in realtà il mio algoritmo può ancora andare avanti può ripetersi e la seconda volta che passa di qua il numero di fiori venduti non è più 1 ma deve diventare 2 e ho capito ma io qua nell'algoritmo ci metto 2 o ci metto 1 non posso dire ma sì sarà 2 se è la seconda volta sarà 1 se è la prima volta sarà 7 se è la settima volta no devo dare un'operazione precisa allora qual è la regola con cui dico se vale 1 se vale 2 e beh la prima volta varrà 1 la seconda volta varrà 2 però detto così non si generalizza perché poi allora la terza volta e beh la terza volta vale 3 sì però non posso fare tutti i mille casi particolari la diciottesima volta la diciottesima volta vale 18 io non posso qua mettere una regola che dica la prima volta vale 1 la seconda volta vale 2 la terza volta vale 3 perché altrimenti chi esegue il programma nel momento in cui arriva la quinta volta e non ho messo la regola mi dice non so cosa fare allora dovrò mettere una regola che generalizzi il problema e dirò che il numero di fiori venduti ogni volta che ho venduto un fiore sarà uguale a quello di fiori venduti che avevo venduto fino a quel momento lì più 1 quindi qua scrivo semplicemente numero di fiori uguale al numero di fiori più 1 ho incrementato di 1 questa variabile questa operazione la chiamiamo incremento aumenta di 1 e la variabile nf lo chiamiamo ma questi sono solamente nomi nostri di comodità lo chiamiamo contatore c'è una variabile che uso per contare o lei non è che lo sa che lei è un contatore questa variabile nf non ha nulla di speciale e come la uso io io la sto usando per contare cosa vuol dire contare vuol dire ogni volta che faccio una certa operazione aumento di 1 quella variabile incremento di 1 quella variabile allora anziché spiegartelo ogni volta guarda che c'è una variabile che poi incremento di 1 ogni volta ti dico guarda quello è un contatore che conta i fiori quando dico contatore già in mente ci salta subito in mente l'idea x uguale x più 1 n uguale n più 1 lo incremento di 1 ogni volta però attenzione qui abbiamo ancora una situazione non ben definita perché se io arrivassi qua eseguo la persona diciamo così che esegue il programma parte dall'avvio legge il prezzo del primo fiore venduto e poi dice va bene adesso devo incrementare il valore di nf nf nuovo prende il valore di nf vecchio più 1 ma nf vecchio quanto valeva? eh non c'è non l'ho mai deciso non l'ho mai detto voi mi state dicendo ma sì ma valeva 0 no non c'è nulla di scontato vale 0 se voglio che nf parta da 0 devo dirgli nf deve partire da 0 se non dico nulla lui non fa nulla e a questo punto dipende dal linguaggio di programmazione o posso avere o un errore oppure un valore casuale che mi rovina l'esecuzione del programma in caso del python se io cerco di zona variabile che non ho inizializzato prima il programma si ferma e mi dà un errore mi dice che questo simbolo non è noto questa variabile non è nota e allora per far sì che quando il programma parte il numero di fiori parte da un valore corretto cioè 0 devo metterci un blocco qua davanti quindi all'avvio nf viene messo 0 vendo il primo fiore a questo punto nf viene ricalcolato come 0 cioè il valore vecchio più 1 totale 1 quindi è giusto poi vado giù non sono a fine giornata e quindi torno su ah ho trovato un errore nel programma ho trovato un errore nel programma perché quando vendo il primo fiore da 0 diventa 1 poi quando torno su e lo rimetto a 0 lo rimetto a 0 e quindi quando leggo il prezzo del secondo fiore dirò che il numero di fiori venduti sono 0 più 1 ho sbagliato qui ho sbagliato a rimettere a 0 questo nf allora ferma non va bene non va bene è giusto mettere n uguale a 0 ma mettere n uguale a 0 va fatto solo all'inizio poi le volte successive non lo devo più fare quindi questo nf uguale a 0 deve stare fuori dal ciclo prima del ciclo sono operazioni preliminari che faccio all'inizio e poi quando inizio il ciclo quando sono già nel vivo del ciclo non deve più essere fatto perché era solamente preparatorio quindi anche chi era alle prime armi riuscendo a vedere seguire diciamo così col ditino la freccia dell'esecuzione e facendo molta attenzione al valore delle variabili e non pensando non cercando di dire no ma questo qua diamo per scontato qualcosa no si esegue proprio riga per riga riusciamo anche a capire come girano queste cose e quindi se un determinato diagramma di flusso è corretto oppure no se calcolo la cosa giusta oppure no poi dopo un po' ci abituiamo andremo molto più veloci su queste cose anche perché alla fine i vari schemi i vari pattern si ripetono un po' sempre ecco da questo punto di vista io riconosco un elemento in più nel mio diagramma del mio ciclo ciclo abbiamo detto era un punto di inizio un punto di fine un corpo eseguito e alcune istruzioni di inizializzazione cioè prima di iniziare il ciclo devo inizializzare inizializzazione devo inizializzare cioè fornire un valore iniziare ad alcune delle variabili che uso altrimenti non so quale sarà quale potrà essere il valore iniziale queste istruzioni di inizializzazione avvengono prima prima di entrare nel corpo del ciclo avvengono preliminarmente quindi dovremmo sempre fare attenzione ogni volta che pensiamo a un ciclo ci dovremmo chiedere ma devo inizializzare qualcosa prima di entrare nel ciclo perché poi quando sono già dentro do per scontato che le cose ci siano e quindi questo risolve risponde alla prima delle quattro domande quanti mazzi di fiori sono stati venduti quanti è il mio nf numero di numero di mazzi di fiori e partiamo dall'ultima qual è il valore medio dei mazzi venduti allora il valore medio dei mazzi venduti in questo caso non lo so però potrei inventarmi un'altra variabile che chiamo m che è il valore medio il valore medio come lo calcolo beh il valore medio è la somma diviso il numero quindi mi servirà anche la somma dei mazzi la somma dei prezzi dei mazzi venduti allora cosa vuol dire vuol dire che se io sapessi quant'è la somma prendiamo la gomma per farci spazio sapessi quanto vale la somma allora potrei dire a un certo punto che il valore medio che il valore medio è uguale alla somma diviso il numero di fiori venduti m uguale a s diviso nf posso fare questa divisione nf è sicuramente diverso da 0 sì perché l'ho inizializzato a 0 quando passo di qui diventa almeno 1 e quindi la prima volta vale 1 sarà s e somma diviso 1 le volte successive lo incremento quindi da 1 diventerà 2 3 4 5 non tornerà mai più a 0 e quindi questa divisione sarà sempre possibile farla sto ragionando su ciò che può succedere al valore di nf eseguendo questo programma è chiaro che il computer l'esecutore di tutto questo ragionamento non sa nulla lui quando arriva qui fa questa divisione se nf è uguale a 0 da errore sono io che so che non potrà dare errore perché nf non potrà mai essere 0 in questo punto del programma quindi mi sono ricondotto da calcolo alla media a una cosa più semplice che calcolo alla somma perché poi se sono la somma calcolo anche la media ma come calcolo la somma? anche qua posso ragionare e dire che la somma la prima volta la somma del primo mazzo che ho venduto sarà uguale al suo prezzo e questo va bene la prima volta per il primo mazzo venduto per il secondo mazzo venduto la somma del secondo dei primi due mazzi sarà la somma dei prezzi dei primi due mazzi sarà il prezzo del primo più il prezzo del secondo e per i primi tre mazzi sarà il prezzo del primo più quello del secondo più quello del terzo però di nuovo qua dobbiamo riuscire a generalizzarla questa cosa allora possiamo generalizzare dicendo che la somma dei primi quando io supponendo di conoscere la somma dei primi più inferiori venduti se arriva se ne vendo uno nuovo ebbè la nuova somma sarà uguale alla somma vecchia più il prezzo di quello che ho venduto quindi in questo caso generalizzo questo scrivendo che la somma è uguale alla somma vecchia più il prezzo di quello che ho di quale di quello che ho appena letto di quello questa variabile prezzo è uguale a questo input qui quindi quindi in questo caso abbiamo una variabile che anche lei si aggiorna all'interno del ciclo ogni volta questa variabile prende il nome spesso di accumulatore perché accumula il valore di una somma ogni volta che eseguo un'iterazione nuova del mio ciclo ogni volta che eseguo un'iterazione si accumula un valore in più e fino alla fine dell'iterazione avrà il valore della somma totale e ovviamente ce ne manca anche un pezzo ci manca un pezzo lassù perché visto che S lo vado a modificare dentro il ciclo dovrò anche inizializzarlo a un valore corretto cioè 0 all'inizio della giornata la somma dei prezzi venduti è 0 e poi via via crescerà ogni volta che ogni volta che eseguo una nuova vendita e dato un determinato prezzo questa somma aumenterà di questo prezzo e dato la somma a cui sono arrivato dividendo per il numero di fiori venduti che anch'esso sta aumentando troverò una nuova media questa nuova media potrà essere maggiore o minore di quella precedente dipende chiaramente dal prezzo di ciò che ha venduto adesso rispetto alla media precedente quindi noi stiamo sempre combinando tre cose la scelta l'input e soprattutto il calcolo e cominciamo però a scoprire che combinandole si riescono a costruire dei costrutti che hanno un significato più importante un contatore che conta le cose un accumulatore che tiene conto di una somma e così via e poi riusciremo questi costrutti qui una volta diciamo così capiti con gli esempi semplici a poi usare tranquillamente in tutti i tipi di esercizi questi sono costrutti di base che compaiono in qualunque tipo di programma ma non c'è nulla di più semplicemente il calcolare s uguale a 0 s uguale a s più fare le somme fare le uguaglianze sono operazioni che può eseguire chiunque senza capirle e il metterle insieme in un certo modo che le fa comportare e ne dà un certo tipo di significato allora noi quindi abbiamo fatto insieme questo il primo punto e l'ultimo punto il valore medio che era il nostro m che abbiamo calcolato io vi lascerei pensare il massimo e il minimo che sono sembrano più ovvi ma hanno bisogno di un ragionamento un pochino diverso come faccio a sapere qual è il mazzo più costoso che ho venduto riuscendo ad analizzarlo a calcolarlo migliorando espandendo questo diagramma di flusso quindi ovviamente il mazzo che vendo dipenderà sempre dal prezzo del mazzo che ho venduto ora e dal prezzo dei mazzi che avevo venduto in precedenza però anche qua dobbiamo cercare di generalizzare un pochino questo ragionamento allora proviamo senza andare a guardare qui sulle slide c'è una soluzione possibile una soluzione molto compatta tutto sommato e questo se vogliamo dimostra il perché a me non piace mai dare soluzioni perché se io vedo questa soluzione non ci capisco niente a parte il fatto che è scritto in inglese ma quello è il meno quando mi mette quello che qua chiama Bunchies è il mio NF quello che chiama Average è la mia media quello che chiama total è la mia somma poi qui ci mette un 100 che non capisco cos'è o meglio lo capiremo tra un attimo lo capiremo facendo il ragionamento però vedere una soluzione fatta da un altro non mi permette di intravedere il ragionamento che quest'altro ha fatto nel costruire questa soluzione semplicemente semplicemente è una cosa che posso seguire passo passo vedere se funziona vedere se ha un significato però capire il ragionamento che stava dietro ad esempio a questo concetto di accumulatore che c'è qui o al concetto di incremento che c'è qui e conviene farselo questo ragionamento perché se lo fai una volta se lo fai due ti rimane dentro e ti rimane per sempre se vedi una cosa fatta da un altro però la capisci superficialmente nel senso che possiamo fare i finti computer che lo sanno eseguire ma noi dobbiamo non fare il computer dobbiamo fare i progettisti quindi dobbiamo saperlo costruire quindi anziché andare a capofitto a guardare la soluzione proviamo a fare diciamo così il passo nostro di costruire di estendere questo diagramma di flusso poi lo vediamo insieme lunedì a lezione la soluzione però nel frattempo provateci a capire come fare estenderlo per calcolare anche il massimo e il minimo dei valori dei prezzi non vi dico altro perché se no vi svevo il segreto e chiaramente molti di voi lo sanno già fare quando hanno già visto queste cose all'inizio ma è un passaggio da cui tutti devono passare prima o poi riuscire a prendere quelli che sono non tanto i blocchi di base che sono banali ma le combinazioni utili di blocchi di base questo sì che è poi quello che ci servirà per andare a costruire ogni volta dei blocchi o dei costrutti sempre più complicati va bene io con questo vi lascio termino questa diciamo così intervento questa lezione video ci vediamo lunedì quindi per vedere sia la soluzione di questo che andare avanti finalmente e mettere le mani anche un pochino su python e quindi vi chiederei entro lunedì di aver completato tutti sistemato l'installazione di python così possiamo anche interattivamente mentre facciamo la lezione l'esercizio che faccio io lo provate anche voi dal vero in tempo reale e riusciamo a sincronizzarci meglio e buona fine di settimana a tutti voi ci vediamo lunedì grazie grazie